Con la proclamazione degli eletti si avvia ufficialmente la nuova consigliatura del comune di Avellino. Una partenza però contraddistinta da una serie di casi di incompatibilità che potrebbero portare alla fuoriuscita di alcuni consiglieri. Una recente norma infatti prevede che i dirigenti pubblici non possano sedere nelle assemblee municipali. Nella legge sono incappati Dino Preziosi, manager dell'AIR, Ida Grella, dirigente scolastica e Virgilio Cicalese, primario presso la città ospedaliera. Toccherà al segretario generale di Rimere la questione, eventuali surroghe verranno stabilite nella prima seduta. Intanto continua il giro di voci sulla composizione della giunta mentre in poll per la presidenza dell'assemblea resta il campione di preferenze Livio Petitto. Io con la massima serenità che mi ha sempre contraddistinto posso dire che sono stato eletto e ringrazio tutti i cittadini che hanno creduto in me come consigliere comunale. Poi se ci sarà da parte del partito o da parte del sindaco un impegno maggiore in altri contesti sarò pronto ad assumermi le mie responsabilità come sempre fatto. Per quanto riguarda la guida del gruppo PD appare vicina l'indicazione dell'ex consigliere provinciale franco-russo. Io a livello personale non ho chiesto nulla al sindaco. Non mi tirerò indietro se dovreste avere un qualsiasi ruolo all'interno dell'amministrazione e anche politica dell'amministrazione stessa. Ovviamente poi ognuno dovrà fare la sua parte. Mi auguro che chiunque sia rappresentare sia il gruppo in consiglio ma tutti quelli che rappresenteranno il Partito Democratico, la maggioranza centro-sinistra all'interno della giunta porteranno avanti quelle che sono le idee programmatiche che tutti quanti conosciamo. Abbiamo delle priorità da seguire e sono importantissime. Ma intanto ad Avellino è polemica per l'ordinanza ribattezzata anti Super Santos. Come primo atto infatti il sindaco ha emesso un provvedimento che vieta giochi di qualsivoglia genere nel centro città. L'obiettivo è quello di evitare disturbo alla quiete pubblica e mantenere il decoro urbano. A molti l'ordinanza è sembrata troppo severa. Strano poi che nel provvedimento venga citata espressamente la strada dove vive il primo cittadino con tanto di numero civico. Solo da qualche giorno alla guida della città e Paolo Forti si è già guadagnato la definizione di sindaco sceriffo.